394 partite con la maglia del Napoli, 17 stagioni consecutive con l'azzurro cucito addosso, 12 delle quali con la fascia sul braccio. Il ritorno da dirigente in due diverse occasioni, il rimpianto di non aver mai potuto festeggiare uno scudetto. Antonio Iuliano, il capitano per eccellenza, compie oggi 80 anni. Nato il 26 dicembre del 42 a San Giovanni a Teduccio, dopo la trafila nelle giovani gli debutta a 19 anni in prima squadra in Coppa Italia. Da allora non si muove più, portando il Napoli a sfiorare lo scudetto in almeno due occasioni. Indimenticabile quella della stagione 74-75, quando il duello con la Juve si conclude con lo scontro diretto a Torino. Alla vigilia, così Iuliano mostrava il suo carisma da leader. Per noi andare a Torino non abbiamo niente da perdere, abbiamo tutto da guadagnare. Giocheremo la nostra partita, poi dopo vedremo il risultato come andrà. Finisce con lo storico gol di Altafini, da allora core è in grato. Iuliano resta al Napoli altri tre anni, prima di chiudere al Bologna una carriera che lo ha visto campione d'Europa e vice campione del mondo con la nazionale. Tornerà a Napoli da dirigente, anche stavolta per lasciare il segno. Nell'anno della riapertura delle frontiere porta a Napoli il rude crawl. Quattro anni dopo mette il sigillo all'operazione Maradona, poi l'ultima parentesi alla fine degli anni 90 con il Napoli in B. Esperienza tutt'altro che memorabile che non offusca però il passato. Oggi gli auguri della città al Capitano Antonio, da sempre per tutti, semplicemente Totonno.